E' stata ufficialmente inaugurata questa mattina la rotonda che collega la statale 16, la provinciale 170, la zona industriale di Punta Penna e il porto di Vasto. Il cantiere è stato avviato lo scorso 27 febbraio e si tratta della prima opera delle sei previste dal PNRR in capo alla struttura commissariale Zessa Abruzzo. Un intervento da un importo complessivo da un milione e duecentomila euro e che è stato restituito alla collettività già dallo scorso 17 novembre. Un'opera attesa da anni e la prima in Italia della Zess come conferma il commissario Mauro Miccio. In otto mesi un'opera piccola che io definisco simbolica e si mostra che il lavoro fatto in collaborazione con tutte le istituzioni e anche per quanto mi riguarda anche per le altre opere che stanno procedendo nei tempi previsti dal PNRR possono essere realizzate. Possiamo farcela, ma non solo l'Italia, a spendere tutti i 190 miliardi che ci sono stati erogati, comprese le rimodulazioni che sono servite a chiarire alcune cose. Ci sono investimenti privati importanti anche in questa zona che stanno incrementando, ci sono già 200 persone che lavorano, ci sono altre persone che nel inizio del prossimo anno cominceranno a lavorare, quindi investimenti pubblici e investimenti privati. Tutto questo si può fare e lo si può fare soprattutto se si collabora. Presente al taglio del nastro anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio che si è soffermato sugli investimenti e i prossimi lavori che riguarderanno il porto di Vasto. Si stanno investendo fondi per il porto, il porto è diventato un porto di rango nazionale quindi è entrato nell'orbita dell'autorità di sistema portuale, sono pronti i finanziamenti per l'ultimo miglio stradale e ferroviario, per il rafforzamento delle banchine, per procedere nell'accordo di coesione che stiamo predisponendo ci saranno altri fondi per lo sviluppo del porto perché è un asset strategico dell'intera regione e non soltanto del territorio vastese.